Più Italia in Europa, Onorevole Carloni, che cosa può significare e quali sono anche gli interessi e i diritti che lei andrà a tutelare? Più Italia in Europa significa poter portare gli interessi delle nostre imprese, che sono un modello economico particolare e che non possono essere mortificate dalle regole che standardizzano i prodotti e favoriscono le multinazionali, mentre noi abbiamo piccole e medie imprese che devono poter tornare ad accedere al credito, non come sta succedendo ora, ma soprattutto non possono vedere la concorrenza sleale di paesi terzi che portano semilavorati, materia prima, grano, pesce, carne, che arriva in Italia, viene trasformata dall'industria e diventa made in Italy. Quello per noi è un danno irreparabile, perché? È il danno e la beffa. Ai nostri produttori chiediamo maggiori regole, maggiori vincoli, burocrazia senza fine per garantire la sostenibilità e anche questo obiettivo di transizione ecologica era figlio di un'altra epoca storica. Oggi dobbiamo pensare a come queste nostre filiere produttive possano resistere all'urto della concorrenza sleale che arriva dagli altri paesi. Per farlo serve molto pragmatismo, ma molto buonsenso, non l'approccio ideologico, perché l'approccio ideologico che ha come sempre come obiettivo la fine del mondo, si scontra con coloro che invece hanno come obiettivo la fine del mese.